Il primo settembre 1753, l'anniversario dell'avvento al trono del re, la città di Parigi allestì i fuochi d'artificio sul Pont Royal. Non furono spettacolari come i fuochi d'artificio per la festa dello sposalizio del re o come i leggendari fuochi d'artificio in occasione della nascita del delfino, ma furono pur sempre fuochi d'artificio molto imponenti. Agli alberi delle navi avevano fissato girandole d'oro a forma di sole. Dal ponte i cosiddetti tori di fuoco riversavano nel fiume una pioggia di stelle ardenti, e mentre ovunque, in un fragore assordante, scoppiavano petardi e sul selciato guizzavano mortaretti, razzi sarivano al cielo e dipingevano gigli bianchi sul firmamento nero. Una moltitudine di migliaia di teste, raccolte sia sul ponte sia sulle banchine delle due rive del fiume, accompagnava lo spettacolo con entusiasti, ah, e oh, e bravo, e persino con evviva, sebbene il re fosse salito al trono ben 38 anni prima e avesse superato da tempo l'apice della sua popolarità. Tale era il potere dei fuochi d'artificio. Grenoie stava muto all'ombra del pavillon de fleur, sulla riva destra di fronte al pont royal. Non muoveva neppure le mani per applaudire, non guardava neppure i razzi che salivano al cielo. Era venuto perché credeva di poter fiutare qualcosa di nuovo, ma ben presto fu chiaro che dal punto di vista olfattivo i fuochi d'artificio non avevano niente da offrire. Tutto ciò che in abbondanza e con spreco sfavillava e sprizzava ed esplodeva e fischiava si lasciava dietro un odore estremamente uniforme, misto di zolfo, olio e salnitro. Era già in procinto di abbandonare quel pubblico spettacolo per tornarsene a casa, lungo la galleria del Louvre, quando il vento gli portò qualcosa, una inezia appena avvertibile, un frammento, un atomo di odore, no, ancor meno, piuttosto il presentimento di un odore che non un odore vero e proprio, ma nello stesso tempo anche il sicuro presentimento di qualcosa di mai annusato. Ritornò verso il muro, chiuse gli occhi e dilatò le narici. L'odore era così straordinariamente delicato e fine che Grenouille non riusciva a trattenerlo. Di continuo esso si sottraeva la sua percezione, che era sovrastato dal fumo polveroso dei petardi, bloccato dalle esalazioni della folla, smembrato e annientato dagli altri mille odori della città. Ma poi, d'un tratto, eccolo di nuovo, una lieve esalazione soltanto, da annusare per un breve secondo come splendida traccia e subito dopo svaniva. Grenouille era in preda ai tormenti. Per la prima volta non era soltanto il suo carattere avido a subire un'offesa, era proprio il suo cuore a soffrire. Aveva la strana impressione che quell'odore fosse la chiave per classificare tutti gli altri odori, che non si capisse nulla degli odori senza avere conosciuto quello e che lui, Grenouille, avrebbe sprecato la sua vita se non fosse riuscito a possedere quell'odore unico. Doveva averlo, non per amore del mero possesso, bensì per la pace del suo animo. Stava quasi male per l'eccitazione, non era ancora riuscito a scoprire neppure la direzione da cui veniva l'odore. Talvolta, prima che un minimo soffio di alitasse incontro, passavano minuti e ogni volta era sopraffatto dall'orribile angoscia di averlo perso per sempre. Infine, lo salvò l'estrema speranza che l'odore arrivasse dall'altra riva del fiume, da qualche luogo in direzione sud-est. Si staccò dal muro del pavillon de fleur, si immerse tra la folla e si fece strada attraverso il ponte. Ogni due passi si fermava. Si alzava sulle punte dei piedi per poter annusare oltre le teste delle persone. Dapprima non sentiva nulla, tanto era agitato. Poi percepiva finalmente qualcosa, fiutava l'odore. Anche più forte di prima, capiva di essere sulla strada giusta. Si immergeva di nuovo, di nuovo si seppelliva tra la moltitudine di curiosi e di pirotecnici che tenevano sempre le fiaccole vicino alle micce dei razzi. Perdeva il suo odore nel fumo acre della polvere e raccolto dal panico. Di continuo urtava qualcuno e dava spintoni e si immergeva di nuovo tra la folla. Dopo minuti interminabili raggiunse l'altra riva, l'hotel de Meilly, il Quai Malacheste, lo sbocco di Rue de Seine. Qui si fermò, si concentrò e annusò. Eccolo! Lo teneva stretto. Come un nastro la Roma si srotolava giù per Rue de Seine, inconfondibilmente chiaro e tuttavia sempre molto delicato, molto fine. Rue de Neu sentì che gli batteva il cuore e seppe che non era lo sforzo della corsa a farlo battere, bensì la sua eccitata impotenza in presenza di quell'odore. Tentò di ricordare qualcosa che gli si potesse paragonare e dovette scartare tutti i paragoni. Quell'odore aveva in sé una freschezza, ma non la freschezza dei limoncelli o delle arance mature, non la freschezza della mirra o della scorza di cannella o della menta verde o delle betulle o della canfora o degli aghi di pino, non quella della pioggia di maggio o del vento gelido o dell'acqua di fonte. E nello stesso tempo aveva un calore, ma non era il bergamotto, il cipresso, il muschio, non era il gelsomino, il narciso, non era il legno di rosa e non come l'iris. Quell'odore era un miscuglio di fugace ed intenso, no, non un miscuglio, un tutto unico e inoltre era debole e lieve, tuttavia forte e deciso come una pezza di sottile seta cangiante, ma no, neppure come seta, bensì come un latte dolcissimo in cui il biscotto si scioglie, cose che, con tutta la buona volontà possibile, non andavano d'accordo, latte e seta. Indescrivibile quell'odore, indescrivibile, impossibile classificarlo in qualche modo, in realtà non poteva esistere e tuttavia era là nella sua splendida naturalezza. Grenoy lo seguì con il cuore che batteva ansioso poiché sentiva che non era lui a seguire il profumo, bensì il profumo ad averlo catturato e ora lo attirava irresistibilmente a sé. Risalì rue de Seine, per strada non c'era nessuno, le case erano vuote e silenziose, la gente era giù al fiume nei pressi dei fuochi d'artificio, nessun odore umano febbrile disturbava la quiete, nessun puzzo acre di polvere. La strada sapeva dei consueti odori d'acqua, di escrementi, di ratti e di scarti di verdure, ma al di sopra fluttuava tenue e chiaro il nastro che guidava Grenoy. Dopo pochi passi, la scarsa luce notturna del cielo fu inghiottita dalle case alte e Grenoy proseguì nel buio. Non aveva bisogno di vedere nulla, l'odore lo conduceva con sicurezza. Dopo 50 metri piegò a destra il rue de Marais, un vicolo se possibile ancora più buio, largo appena una spanna. Stranamente l'odore non divenne molto più intenso, divenne soltanto più puro e per questo, per la sua purezza, in continuo aumento acquisì una forza d'attrazione sempre maggiore. Grenoy camminava senza volontà propria. Ad un certo punto l'odore lo portò decisamente a destra, apparentemente al centro del muro di una casa. Si aprì un passaggio basso che conduce nel cortile interno come un sonnambulo. Grenoy entrò nel passaggio attraverso il cortile interno, svolto a un angolo e arrivò in un secondo cortile interno più piccolo, finalmente illuminato. Il luogo era un quadrato grande soltanto qualche passo, dal muro sporgeva una tettoia di legno obliqua, sotto la tettoia, su un tavolo, era appiccicata una candela. Una fanciulla era seduta a questo tavolo e puliva Mirabelle. Prendeva i frutti da un canestro alla sua sinistra, li privava del gambo e del nocciolo con un coltello e li gettava in un secchio. Poteva avere tredici o quattordici anni. Grenoy si fermò. Capì subito qual era la fonte dell'odore che avevano usato per più di un mezzo miglio fino all'altra riva del fiume. Non questo sudicio cortile interno, non le Mirabelle. La fonte era la fanciulla. Per un attimo fu talmente confuso che credette realmente di non avere mai visto in vita sua una cosa bella, come quella fanciulla. Tuttavia vedeva solo il suo contorno da dietro, contro la candela. Naturalmente pensò di non avere mai sentito un odore così buono, ma poiché conosceva gli odori umani a migliaia, odori di uomini, di donne, di bambini, non riusciva a comprendere come un essere umano potesse emanare un odore tanto squisito. In genere le persone avevano odori insulsi o miserabili. I bambini avevano un odore insipido, di uomini un odore di orina, di sudore, acre, di formaggio, le donne di grasso rancido e di pesce in via di decomposizione. Di nessunissimo interesse del tutto ripugnanti erano gli odori delle persone. E dunque, per la prima volta in vita sua, Grenouille non si fidò del suo naso e dovette chiamare in aiuto gli occhi per credere a quello che stava annusando. Ma la confusione dei suoi sensi non durò a lungo. In realtà gli servì soltanto un attimo per accertarsi con i suoi occhi, dopodiché si abbandonò senza riserva alcuna alle percezioni del suo senso olfattivo e annusò che era una persona, annusò il sudore delle sue ascelle, il grasso dei suoi capelli, l'odore di pesce del suo sesso, annusò tutto col massimo piacere. Il suo sudore aveva un profumo fresco come la brezza del mare, il sebo dei suoi capelli dolce come l'olio di noce, il suo sesso come un mazzo di ninfee bianche, la pelle come fiori dal bicocco e l'insieme di tutte queste componenti dava un profumo così ricco, così equilibrato, così affascinante che tutto ciò che Grenouille avevano usato fino ad allora in fatto di profumi, anche tutto ciò che per gioco aveva creato dentro di sé come costruzioni olfattive di un tratto divenne puro non senso. Centinaia di migliaia di odori sembravano non valere più nulla di fronte a questo unico odore. Questo solo era il principio superiore secondo il quale si dovevano classificare gli altri profumi, era la pura bellezza. Per Grenouille era chiaro che senza il possesso di quel profumo la sua vita non aveva più alcun senso. Doveva conoscerlo fin nei minimi dettagli, fin nell'ultima e più minuta delle sue particelle, ricordarlo soltanto nel suo insieme non gli bastava. Voleva imprimere, come con un marchio, questo profumo da apoteosi nel caos della sua anima nera, analizzarlo con la massima esattezza e dall'ora in poi pensare, vivere e annusare soltanto secondo le strutture interne di questa formula magica. Si avviò lentamente verso la fanciulla, sempre più vicino, finché sotto la tettoia si formò un passo dalle sue spalle. Lei non lo udì. Aveva capelli rossi e portava un vestito grigio senza maniche. Le sue braccia erano di un bianco candido e le mani erano gialle per il succo delle mirabelle tagliate. Grenoie stava curvo sopra di lei, aspirava al suo odore, ora totalmente puro, così come saliva dalla sua nuca, dai suoi capelli, dalla scollatura del suo vestito e lo lasciava scorrere dentro di sé come una lieve brezza. Non si era mai sentito così bene, ma la fanciulla provò una sensazione di freddo. Non vedeva Grenoie, ma fu colta da un senso d'angoscia, da uno strano brivido, come avviene ad un tratto quando si è assaliti da una vecchia paura dimenticata. Era come se una corrente fredda le stesse alle spalle, come se qualcuno avesse aperto con una spinta una porta che conduca in una enorme cantina fredda e mise da parte il suo coltello da cucina, strinse le braccia al petto e si girò. Quando lo vide, si irrigidì a tal punto per lo spavento da dargli tutto il tempo di metterle le mani attorno al collo. Lei non tentò neppure di gridare, restò immobile, non fece un movimento di difesa. Da parte sua, lui non la guardò, non vide il suo bel viso cosparso di lentiggini, la bocca rossa, i grandi occhi verdi brillanti, poiché teneva i propri occhi ben chiusi mentre la strozzava e la sua sola preoccupazione era quella di non perdere neppure la minima parte dell'odore di lei. Quando l'ebbe uccisa, la depose a terra tra i noccioli delle miravelle, le strappò il vestito e il flusso di profumo divenne una marea che lo sommerse con la sua fraganza, affondò il viso nella sua pelle e passò le sue narici dilatate dal ventre al petto, al collo, sul suo viso e tra i capelli e di nuovo sul ventre, poi giù fino al suo sesso sulle sue cosce e sulle sue gambe bianche. Si imbevve di lei dalla testa ai piedi, raccolse gli ultimi resti del suo odore sul mento, nell'ombelico e tra le pieghe dell'incavo del gomito. Quando l'ebbe annusata fino allo sfinimento, restò acovacciato accanto a lei ancora un momento per riprendersi perché era stracolmo di lei, non voleva sprecare nulla del suo odore. Prima doveva bloccare i suoi comportamenti interni, poi si alzò e spense con un soffio la candela. A quell'ora le prime persone che rincasavano risalivano a Rue de Seine cantando e lanciando evviva. Grenoie si lasciò guidare dal naso fin sul vicolo e attraversò Rue de Petit, una parallela di Rue de Seine che portava al fiume. Poco dopo scoprirono la morta, ci fu un gran pamore. Si accesero fiaccole, arrivò la guardia, Grenoie era da tempo sull'altra riva. Quella notte la sua rimessa gli sembrò un palazzo e il suo tavolaccio un letto a baldacchino. In vita sua fino ad allora non aveva mai saputo che cosa fosse la felicità, tutt'al più conosceva stati molto rari di ottusa contentezza, ma ora tremava di felicità. La sua beatitudine era tale che non riusciva a dormire. Gli sembrava di essere nato per la seconda volta, no, non per la seconda volta, per la prima volta, poiché finora aveva vissuto un'esistenza puramente animale con una conoscenza estremamente nebulosa del suo sé. Ma con oggi gli sembrava di sapere finalmente chi era in realtà e cioè null'altro che un genio e che la sua vita aveva senso e scopo e fine e un destino più alto vale a dire niente di meno che rivoluzionare il mondo degli odori e che lui solo al mondo avesse i mezzi per farlo e cioè il suo raffinatissimo naso, la sua prodigiosa memoria e cosa più importante di tutto l'odore modello di quella fanciulla di Rue de Marais nel quale come in una formula magica era contenuto tutto ciò che costituiva un grande aroma un profumo delicatezza vigore durata varietà e una spaventosa irresistibile bellezza aveva trovato la bussola per dirigere la sua vita futura e come tutti i mostri geniali ai quali un evento esterno lascia un solco dritto nel caos a spirale delle loro anime Grenoy non si discostò più da ciò che credeva di avere individuato come direzione del suo destino adesso gli era chiaro il motivo per cui era attaccato così tenacemente e rabbiosamente alla vita doveva essere un creatore di profumi e non uno qualsiasi bensì il più grande profumiere di tutti i tempi quella stessa notte prima da sveglio e poi in sogno passò in rancere segna l'immenso campo di rovine dei suoi ricordi analizzò i milioni e milioni di elementi costruttivi aromatici e diede loro una classificazione sistematica buono con buono cattivo con cattivo raffinato con raffinato rozzo con rozzo puzzo con puzzo ambrosio con ambrosio nel corso della settimana successiva questa classificazione divenne sempre più minuziosa il catalogo degli aromi sempre più ricco e più differenziato la gerarchia sempre più chiara e ben presto poté cominciare a erigere le prime metodiche costruzioni olfattive case muri gradini torri cantine camere stanze segrete una cittadella interna fatta delle più deliziose composizioni di aromi che si ampliava di giorno in giorno che si abbelliva di giorno in giorno costruita alla perfezione che l'inizio di questa magnificenza fosse stato segnato da un delitto gli era del tutto indifferente se mai ne era conscio già non riusciva più ricordare l'immagine della fanciulla di rue de marée il suo viso il suo corpo ma di lei aveva asserbato la parte migliore e l'aveva fatta propria il principio del suo profumo a quel tempo a Parigi c'erano almeno una dozzina di profumieri sei di loro vivevano sulla riva destra sei sulla riva sinistra e uno proprio nel mezzo e cioè sul pont Houchange che collegava la riva destra con l'île de la Cité su questo ponte avevano costruito da entrambi i lati case a quattro piani così fitte che attraversandolo non si riusciva a vedere il fiume in nessun punto e si aveva invece l'impressione di trovarsi in una strada del tutto normale con solide fondamenta e per di più estremamente elegante in effetti il pont Houchange era considerato un centro commerciale tra i più raffinati della città qui si trovavano i negozi più rinomati qui c'erano gli orafi gli ebanisti i migliori produttori di parrucche e di borse i fabbricanti di biancheria intima e delle calze più fini corniciai venditori di stivali da cavallerizzo ricamatori di spalline fonditori di bottoni d'oro e banchieri e qui c'erano anche il negozio e l'abitazione del profumiere e guantaio Giuseppe Baldini sopra la sua vetrina si stendeva un lussuoso baldacchino laccato di verde lì accanto era appeso lo stemma di Baldini tutto in oro un flaccone d'oro dal quale usciva un mazzo di fiori d'oro e davanti alla porta c'era un tappeto rosso che ugualmente riportava lo stemma di Baldini sotto forma di ricamo in oro quando si apriva la porta risuonava un carillon persiano e due eroni d'argento cominciavano a sprizzare dai becchi acqua di viole in una coppa dorata anch'essa con la forma flaccone dello stemma di Baldini poi dietro al banco in legno di bosso chiaro c'era Baldini in persona vecchio e rigido come una colonna in parrucca incipriata ad argento e giacca blu gallonata d'oro una nuvola d'acqua di frangipani con cui si spruzzava tutte le mattine lo avvolgeva in modo quasi visibile e spostava la sua figura in una vaga lontananza nella sua immobilità sembrava l'inventario di se stesso solo quando risuonava il carillon e gli aironi cominciavano a sprizzare e entrambe le cose non avvenivano molto di frequente d'un tratto la vita si risvegliava in lui la sua figura si ammorbidiva diventava piccola e requieta e volava fuori tra ripetuti inchini da dietro il banco talmente in fretta che la nuvola d'acqua di frangipani cominciava a malappena a seguirlo per pregare i clienti di accomodarsi e di assistere all'esibizione dei profumi e dei cosmetici più pregiati Baldini ne aveva migliaia la sua offerta partiva dalle essences absolues da oli di fiori tinture estratti secrezioni balsami resine e altre droghe in forma secca fluida o cerosa passava diverse pomate paste ciprie saponi creme sachette bandoline brillantine creme da barba gocce antiverruca e fintinei per finire con acque da bagno lozioni sali profumati aceti da toilette e una serie infinita di profumi veri e propri ma Baldini non si accontentava di questi prodotti della cosmesi tradizionale la sua ambizione consisteva nel radunare nel suo negozio tutto ciò che in genere emanava un profumo o che in qualche modo serviva al profumo e così accanto alle pasticche ai coni e ai nastri di incenso si trovavano anche tutte le spezie possibili dai semi danici alla scorza di cannella sciroppi liquori e distillati di frutta vini di cipro malaga e corinto miele caffè tè frutta secca e candita ficchi caramelle cioccolato marroni persino capperi cetrioli e cipolle in salamoia e tonno marinato e poi ancora cera lacca odorosa carta da lettera profumata inchiostro per lettere d'amore in olio di rose cartelle da scrivania di pelle spagnola portapenne in legno di sandalo bianco cassettine cassapanche in legno di cedro purpuri e coppe per petali di fiori incensieri dottone flaconi e vasetti di cristallo con tappi d'ambra molata guanti profumati fazzoletti cuscinetti cuscinetti per aghi da cucido imbottiti di fiori di macis e tappeti impregnati di aroma di muschio che potevano riempire una stanza di profumo per più di cento anni naturalmente tutte queste merci non avevano posto nel lussuoso negozio che si affacciava sulla strada o sul ponte e così in mancanza di una cantina non soltanto il solaio della casa ma tutto il primo piano e il secondo piano come pure quasi tutte le stanze del piano terra che davano sul fiume dovevano servire da magazzino di conseguenza in casa Baldini regnava un indescrivibile caos di odori tanto era scelta la qualità dei singoli prodotti Baldini acquistava infatti soltanto merci di primissima qualità altrettanto intollerabile era la consonanza olfattiva dei medesimi simile a un'orchestra composta da mille membri in cui ciascun musicista suoni fortissimo una diversa melodia Baldini stesso e i suoi impiegati erano divenuti insensibili a questo caos come certi vecchi direttori d'orchestra i quali appunto sono tutti duri d'orecchio e anche sua moglie che abitava al terzo piano e lo difendeva strenuamente da un'ulteriore avanzata delle merci non percepiva quasi più la moltitudine di odori come un disturbo non così avveniva al cliente che entrava per la prima volta nel negozio di Baldini il miscuglio di profumi che vi regnava lo colpiva come un pugno in faccia lo esaltava o lo stordiva a seconda della sua costituzione e comunque confondeva i suoi sensi al punto che spesso non ricordava neppure più la ragione per cui era entrato i fattorini dimenticavano le ordinazioni signori dall'aspetto imponente si sentivano poco bene e più di una signora era colta da un attacco a metà di isteria e a metà di claustrofobia perdeva i sensi e tornava in sé soltanto con un potentissimo sale aromatico di olio di garofano ammoniaca e alcol canforato in simili circostanze non c'era proprio da meravigliarsi che il carillon persian davanti alla porta del negozio di baldini risuonasse sempre più di rado e che sempre più di rado gli aeroni d'argento sprizzassero acqua di viole